Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti. Sono tre gli aspiranti sindaci, Mario Conoci per il centrodestra e Roberto Ferrara del Movimento 5 Stelle contenderanno la fascia tricolore al sindaco uscente, Mario Bruno, che domattina nella sede di Viela Marmara presenterà le liste che lo sostengono. Il 16 giugno si presenteranno al giudizio dei lettori diversi ex assessori della sua giunta, Gabriele Esposito, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Mario Nonne, tutti nella lista civica per Alghero. Non ci sono invece Raniero Selva, Lalla Cavazzuti e il Dem Alessandro Balzani. Ma la curiosità è che nel centrodestra ci sono diversi ex componenti della giunta Bruno. Lelle Salvatore, Marisa Castellini, Gianni Cherchi nell'Udc, Gavino Tanchis nel Partito dei Sardi e Alberto Bamonti nei riformatori sardi. Molti e anche consiglieri uscenti che proveranno a tornare tra i banchi di via Colombano, ma spiccano soprattutto le novità e i ritorni sulla scena politica di esponenti che avevano deciso di prendersi una pausa. In totale sono 280 gli aspiranti consiglieri, ma ci sarà possibilità solo per 24, compresi i candidati sindaco perdenti. Liste protocollate tutte tra venerdì e sabato e che verranno presentate questa settimana. Forza Italia lo ha fatto giovedì, il Movimento 5 Stelle, sabato. Oggi è il turno dei riformatori sardi che hanno stretto un accordo con Forza Paris. Alle 18 ci saranno il coordinatore regionale Pietrino Fois e quello cittadino Alberto Zanetti, oltre al candidato sindaco Mario Conoci. Con loro il consigliere regionale dei riformatori Aldo Salaris, Vincenzo Corrias e il vicepresidente di Forza Paris Antonio Cardin. Sempre questo pomeriggio, ma alle 18.30, nella sede di Via Vittorio Emanuele, l'avvio della campagna elettorale di Forza Italia. Uniti si vince, questo è lo slogan degli azzurri che presentano come capodista Annunzio Camerada. Domattina, come ha detto, il turno di Mario Bruno. Alle 11, nella sede di Via La Marmora, il sindaco uscente presenterà la propria candidatura, assieme ai referenti della coalizione di centro-sinistra che lo sostengono. Quindi, per Alghero, Partito Democratico e Sinistra in Comune. Come anticipato nel servizio, Movimento 5 Stelle, che ha svelato i propri candidati, che sono in tutto 19, ha presentato il programma sabato pomeriggio nella sala conferenze di San Francesco. Sentiamo allora le parole proprio del candidato sinnaco Roberto Ferrara. Oggi ho il piacere di presentare alla cittadinanza la lista del Movimento 5 Stelle che si presenterà alle prossime elezioni comunali. Ieri mattina, a mezzogiorno, abbiamo presentato la lista in comune, siamo stati i primi a presentarla. La nostra lista era già pronta da due mesi, di fatto. Abbiamo lavorato in questi due mesi al programma, il programma che adesso presenteremo alla città. Oggi è una giornata particolare perché avremo, quindi oltre ai nostri candidati che adesso verranno conosciuti dalla collettività, dalla cittadinanza algherese, avremo anche ospiti parlamentari del territorio, 5 Stelle che saranno Ettore Riccheri, Mario Perantoni e Paola Dejana, la nostra deputata algherese. Con noi avremo anche il sindaco di Porto Torres che ci racconterà un po' la sua esperienza amministrativa. Presenteremo anche i candidati all'europea in particolare. Oggi abbiamo Donato Forcillo, che è il nostro rappresentante del territorio, che correrà per le elezioni europee. Io sono molto lieto, adesso partirei da una campagna elettorale molto impagnativa, ma noi siamo con lo spirito giusto, abbiamo fatto un bel programma fattibile che adesso racconteremo alla città. E sempre sabato pomeriggio, nella sede cittadina del Pisdaz, si è svolta una conferenza stampa convocata congiuntamente dal segretario cittadino sardista Giuliano Tavera e dal suo omologo del partito dei Sardi, Gavino Tankis. Erano presenti inoltre il candidato a sindaco Mario Conoci e il componente della segreteria nazionale del Pisdaz, Giorgio Cherchi. La convergenza programmatica che ha portato il PDS a partecipare alla coalizione a forte trazione sardista ed identitaria che sostiene la candidatura a sindaco di Mario Conoci anticipa il nuovo corso politico del nostro partito, ha dichiarato Tankis, così come anche ribadito dal nostro neoresponsabile per le elezioni amministrative Antonio Succu, recentemente assunto l'incarico per volontà dell'Assemblea nazionale del partito. Ritengo perciò assolutamente non condivisibili le ultime esternazioni apparse sul blog personale del segretario di missionario Maninchedda, poiché in tutta evidenza fuori da ogni contesto politico e da cui intendo fermamente dissociarmi e prendere con estrema chiarezza le distanze. Il candidato a sindaco Conoci ha, assieme al segretario delle Pisdazze cittadino Tavera, concluso la conferenza apprezzando la coerenza del rappresentante del partito dei sardi, sottolineando piuttosto la compattezza della coalizione e declinato invece l'invito a commentare le dichiarazioni di Maninchedda che, commentandosi molto bene da sole, ha detto Conoci, definiscono piuttosto l'effettiva dimensione del personaggio e non meritano perciò da parte nostra ulteriori e perfettamente inutili attenzioni. Il presidente del Consiglio regionale Michele Paes, l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu e il presidente della Commissione Domenico Gallus sono arrivati questa mattina ad Alghero, eccoli qua, per un sovralluogo nei due ospedali cittadini, prima al civile e poi al marino. Mezzogiorno circa l'arrivo, non so come in zona taulera, quindi lo spostamento al marino. Nel pomeriggio è previsto invece il sovralluogo negli ospedali di Sassari con la prima visita che sarà al civile. Dalle 16.30 la delegazione invece andrà a Dozzieri. Nel Tg di domani sentiremo proprio le parole dell'assessore e anche del presidente del Consiglio regionale Michele Paes. Ora invece ci fermiamo per una prima pausa pubblicitaria. ha lasciato Alghero all'età di 6 anni nel 1953, oggi è tornata per la prima volta, 66 anni dopo. Una vita fa arriva a Bambina in Sud America, a Buenos Aires in Argentina all'età di 6 anni. Mariella Langella oggi ha 72 anni della sua Alghero, gli è rimasta solo la lingua che ha sempre parlato a casa con i suoi genitori, col padre e con la madre, Pinucia Ballone. I suoi genitori sono sepolti a Buenos Aires, lì vive tra l'altro, oltre a Mariella, anche il fratello maggiore Renzo. Come tanti algheresi nel dopoguerra, l'emigrazione è d'obbligo. La famiglia Langella segue probabilmente la scia dei muratori che in quegli anni vanno a cercare fortuna in Argentina, molti di loro tornano e diventano impresari edili. Mariella Langella si sposa a due figli e oggi è vedova. Ha vissuto a Buenos Aires, ha visto scorrere la storia dell'Argentina, dalla dittatura militare ai mondiali di calcio, in cui un suo concittadino vestiva la maglia azzurra. Ma l'alghe è slalghe e oggi l'ha ritrovata. La signora Mariella è giunta infatti nella riviera del Corallo, con il volo delle 10.10 circa, proveniente da Roma, è arrivata con uno dei figli e con la nipote. Ad attenderla i suoi parenti, il sindaco Mario Bruno, che nell'occasione gli ha donato una targa di benvenuto. È l'Accademia Olearia di Alghero a vincere la quarta edizione del concorso Ozzusardu, promosso da Coldireti Nord Sardegna, con il patrocino del Comune di Sassari e la collaborazione della Camera di Commercio del Nord Sardegna e APOS, l'organizzazione dei produttori degli ovicoltori. L'azienda agricola algherese, che fa incetta di premi a tutti i livelli, si conferma così una delle leader nel settore. È un'azienda all'avanguardia che sta innovando sia nei metodi di trasformazione che nel chiudere la filiera, trasformando quelli che sono degli scarti risorsa, certifica circa l'80% della produzione DOP, rappresenta circa il 60% della produzione DOP sarda. L'Accademia Olearia si è giudicata il primo e secondo posto nella categoria oli extravergine di oliva, riservata alle aziende agricole, con rispettivamente il Gran Riserva Fruttato Verde e con il Monocultivar Bosana. A ritirare il premio è stato Alessandro Fois, che conduce l'azienda insieme al padre Giuseppe e al fratello Antonello. Al terzo posto si è invece classificata la cooperativa Valle del Cedrino con Costa degli Olivi DOP Sardegna. La categoria obbisti invece si è l'aggiudicata Gian Mario Faiz di Usini. Al secondo posto si è classificato l'olio extravergine di Giovanna Porcu di Alghero e al terzo Michelino Cugurra di Florinas. Le menzioni speciali infine sono andate all'azienda agricola Giuseppe Brozu di Castelsardo per il miglior olio biologico e ancora all'Accademia Olearia per il miglior olio monocultivar Bosana. E ritorna il concorso di poesia intitolato a Luca Scognamillo, giunto alla sua sesta edizione. Il premio è istituito dai genitori di Luca, cura del Liceo Linguistico Manno, in collaborazione con Fondazione Alghero, Libreria Labirinto e Turisport Europe, è rivolto agli studenti delle scuole superiori algheresi. La cerimonia di consegna del premio è fissata per il prossimo 6 di giugno, come abbiamo visto anche dalla Locandina, alle ore 16.30 presso la sala Conferenze del Qualtè. Ci fermiamo per un'altra pausa, tra poco con lo sport. Chiudiamo il telegiornale allora con lo sport. Il calcio a 5 in primo piano perché la Fuzzola Alghero ha conquistato l'accesso alla semifinale play-off di Serie C2. Sabato pomeriggio in un palacorbia gremito. La squadra di Mister Cosso ha battuto 8 a 4. la Southwest Sport in avvio un grande intervento di Iacomino, ma al sesto è arrivato il vantaggio giallorosso con 32. Poco dopo il quarto d'ora il pareggio ospite, ma al ventesimo ancora Capitan 32 regalato il 2 a 1 al Fuzzal. Ospiti che reagiscono nel giro di pochi minuti trovando prima il pareggio, poi il vantaggio per 3 a 2. Suiranno anche l'allungo con ben due tiri liberi neutralizzati da Iacomino. Fuzzola Alghero che parte subito forte nella ripresa, prima riacciuffa la Southwest Sport con idili, poi trova il nuovo vantaggio con 32 che si ripete dopo due minuti per il 5 a 3. Al quarto d'ora gli ospiti accorciano, provano a rientrare in partita, ma la Fuzzola Alghero chiude la pratica negli ultimi minuti. Arru e Becca, quest'ultimo autore di una doppietta, regalano il definitivo 8 a 4. Il pass per la semifinale che la squadra di Mister Cossu giocherà questo sabato al Palacurbia contro la Dim Sport. E ora il tennis, tennis giovanile, dopo la vittoria in doppio all'Open di Porto Torre, si incoppia con il cagliaritano Matteo Casula del tennis club Margine Rosso. Il portacolori del tennis club Alghero Nicolo Serra si è ripetuto vincendo la categoria Under 14 al tennis club Terranova di Olbia. Nel suo tabellone, composto da 20 atleti, Nicolo dopo un turno agevole ha battuto in sequenza l'atleta di casa Davide Vargiu in 3-7, 6-3, 4-6, 7-6 nei quarti. Il torresino Nicola Loriga per 6-1, 6-4 in semifinale e ha dominato proprio la finale col punteggio di 6-1, 6-0 all'atleta sassarese del tennis club Milano 26 Riccardo Volpe. Dopo questi risultati Nicolo si garantisce il passaggio alla categoria superiore. Dalla prossima settimana sarà impegnato nel circuito regionale Under 14 a squadre con avversari da definire insieme ai compagni Lorenzo Carboni, Gianmarco Cutuli e Giorgio Alias che si sta riprendendo da un brutto infortunio. Tappa barbaricina invece per l'Alghero Marathon impegnata nel precedente weekend nella ventunesima edizione del trofeo Corri Nuoro manifestazione organizzata dall'Atletica Amatori Nuoro ed inserita con l'appuntamento del progetto Master On The Road 2019. Gara serale con partenza e arrivo da Piazza Italia su un percorso cittadino con saliscendi per un totale di 2.800 metri da ripetersi quattro volte per un totale di 11,2 km riservato alle categorie Junior, Promesse e Senior. Risultati di tutto rispetto per il Blue Runner salgheresi Angelo Tilocca si è classificato al settimo posto assoluto nonché terzo nella categoria SF40. Ottima performance per Marco Puddine Giuseppe Baffo Giovanni Cherchi e Salvatore Casu Esordio in gara per Giuseppe Picchedda e presenti nella gara maschile anche Giacomo Carboni Guido Rimini Raffaele Piras Ranato Cattonio e l'inossidabile Palmiro Conca quarto di categoria SF70 in campo femminile quarto e quinto posto assoluto per Daniela Perinu e Paola Pala rispettivamente prima nella SF40 e seconda nella SF35 dove ha corso anche Francesca Masala vittoria di categoria per Daniela Zedda infine nella SF50 Domenica 12 maggio invece c'è stato un doppio appuntamento nella Sicorre Pertiesi organizzata dalla locale associazione caotica e amici di Mandrantine sesto posto finale per Giuseppe Panai in un percorso di 12 chilometri all'interno del paese in contemporanea Sassari da Piazza Castello una foltissima rappresentanza dell'Alghero Marathon ha preso parte alla manifestazione 50 e non li dimostra Corri e cammina con Lail sempre su un percorso cittadino di 6 chilometri questo sabato 25 maggio appuntamento per la terza edizione del Corri nel Villanova e con la Maratona dei Fenici a Pula per oggi è tutto io vi lascio le previsioni del tempo per domani grazie per l'attenzione arrivederci